No, noi non siamo niente inutili, non so, il sindaco ha fatto riferimento a una conferenza di servizi a noi non risulta che sia stato mai convocato ufficialmente da una conferenza di servizi con il Genio Civile, il Comune di Nocera e il Consorzio di Bonifica perché ci saremo attivati prontamente, anzi colgo l'occasione per sollecitare io una conferenza di servizi lo faremo immediatamente anche per iscritto sia il Genio Civile che è competente su tutto il demanio e in particolare in questo caso la provincia di Salerno, su tutto il demanio della provincia di Salerno e della regione Campania e quindi l'ente preposto a coordinare e a verificare gli interventi da fare sul territorio quindi non il Consorzio di Bonifica è un piccolo ente, alcuni ritengono inutili ma comunque è un piccolo ente quindi non può disporre da sé interventi, detto questo ci faremo portavoce per questa conferenza di servizi e coinvigieremo naturalmente anche il Comune di Nocera perché noi siamo collaborativi, non attacchiamo i problemi non si risolvono attaccando le altre istituzioni del territorio e in questo caso il Consorzio di Bonifica che sembra essere quello più debole perché molti amministratori dimenticano le condizioni economiche e finanziarie in cui verse il Consorzio di Bonifica Intanto arrivano carte alla Procura della Repubblica Sì, carte, noi siamo stati i primi a fare l'esposto alla Procura della Repubblica sul Fosso Imperatore abbiamo segnalato, ogni nostra iniziativa fatta con le polizie idrauliche è sempre segnalata alla Procura della Repubblica quindi noi agiamo nel rispetto pieno delle regole anzi siamo collaborativi su tutto il territorio del comprensorio abbiamo offerto nostra collaborazione nel nostro piccolo a tutte le procure che indagano sui rifiuti o sversamenti illegali di rifiuti del resto c'è una legge regionale di maggio del 2016 che in questo caso statuisce in modo chiaro che sono i comuni responsabili degli inquinamenti all'interno dei propri territori quindi anche dei canali consortivi cioè a vigilare e a controllare quindi noi, Fosso Imperatore in particolare, di Paeto, siamo soggetto danneggiato e come tale subiamo due volte le conseguenze l'onere di pulire il canale con i costi aggiuntivi è enorme per quanto riguarda perché una cosa è dragare fanghi a cui all'interno sono presenti i coli fecali quindi hanno un costo dieci volte tanto rispetto a quello che è il costo normale di gestione Alla fine la responsabilità ricade sul consorzio anche sui territori tra Angri e San Marzano quindi diciamo zona rio sguazzatore Sì, anche mi preme dire due parole in merito al rio sguazzatore noi abbiamo fatto un intervento su una sommurgenza decisa l'anno scorso dalla vecchia gestione commissariale insieme a Genio Civile e i sindaci, i quali spinsero a fare una sommurgenza proprio sul rio sguazzatore dopodiché se ne sono tutti quanti lavate le mani e se ne è sobbarcato il consorzio perché dopo un anno questi fanghi erano rimasti là sulle rive la gente aveva anche scaricato dell'amianto in modo abusivo il consorzio se ne è fatto carico facendo una gara l'impresa ha vinto questa gara e ha rimosso oltre tonnellate e migliaia di fanghi insomma per 160.000 euro adesso ovviamente l'impresa va pagata noi abbiamo fatto tavole tecnici, incontri alla regione affinché ovviamente la regione ha riconosciuto, ha appostato questa somma per il pagamento di queste imprese detto questo, i sindaci e in particolare il comune di Angra ci chiede un ulteriore intervento là ma l'intervento, come ha riconosciuto lo stesso sindaco di Angra in un sopralluogo fatto congiuntamente tra noi e Genio Civile